Sicuramente perdere Miri che stava in un momento molto molto positivo è un peccato ma non deve essere minimamente una scusata che fa parte del gioco con un atlete che non si soffermate mai in formato Mi aspettavi una partita di questo tipo dalla tua squadra? Dalla mia squadra? Io mi aspettavo una partita di questo genere Sono dispiaciutissimo per il primo set perché è andato sui binari che voleva Si ha perso, potrei incontrattacchi con palla facile, un paio di errori che non sono nostri Quindi quello è lì che c'era, poi sarebbe stata un'altra partita di questo Mi aspettavo un conegliano cinico e mi aspettavo qualcosa di più Mi aspettavo sempre quando si perdono ormai E' la prima lezione di quest'anno, dobbiamo essere molto E' un'altra, capire bravere e interpretare la velocità